Anche quest'anno è stato organizzato a Saluzze d'Intorni l'Outdoor Festival, un ricco calendario di appuntamenti legati all'attività all'aperto del Saluzzese. La mattina di sabato 18 marzo c'è stata anche l'occasione per una riflessione più ampia con la presentazione di un documento importante nell'ambito di Terres Monviso. Oggi c'è l'occasione della seconda edizione del Salone Outdoor delle Terres del Monviso. Intanto è un contenitore che ci permette di raccontare ai visitatori, alla popolazione del territorio ma anche a persone che arrivano da fuori, quelle che sono le offerte turistiche delle Terres del Monviso che sono le sei valli del GAL Tradizione Terrocitana e più i comuni della prima pianura saluzzese. Stamattina in particolare con amministratori, con i decisori politici, con le associazioni cerchiamo invece di ragionare su quello che è il sistema diffuso del territorio saluzzese ovvero una serie di soggetti che sono stati costruiti nei decenni ormai e che mettono in pratica politiche di area vasta su cui però forse è calato un velo direi di abitudine si è dimenticata l'importanza di queste realtà articolate che fanno sistema sul territorio saluzzese andando a svolgere per i comuni delle funzioni estremamente importanti penso alla distribuzione dell'acqua, penso al ciclo dei rifiuti penso ai servizi sociali, penso alla promozione turistica e a tutte le iniziative di rilancio dell'attività economica Si tratta di Terre del Monviso, scenari strategici per un territorio metromontano è stato stilato da docenti del Politecnico di Torino che hanno provato a fotografare la situazione attuale e a indicare alcuni spunti per il futuro è un lavoro che abbiamo fatto per ragionare su che cosa è il territorio in questo momento più di quest'area travitante attorno al grande gigante di pietra e come si possa immaginare delle prospettive di futuro Questo è un territorio che in questo momento sta vivendo un grandissimo fermento anche degli episodi di innovazione anche qui il luogo dove siamo è figlio di una serie di politiche, di azioni che puntano sulle infrastrutturazioni sociali e poi abbiamo sperimentazioni nelle Altevalli, a Ostana, a Melle, ecc. I problemi, diciamo le sfide dei prossimi anni sono le sfide alcune di carattere, come dire, oramai globale pensiamo al tema dell'acqua soprattutto in un territorio, come dire, dall'agricoltura molto ricca o pensiamo ad esempio alla gestione dei grandi servizi territoriali che sono relativi ai temi delle infrastrutture, ai servizi socio-sanitari a quelli dell'istruzione, eccetera, che sono tutti temi oggi con grandi criticità quello che risulta, come dire, evidente è la necessità di costruire delle alleanze delle coalizioni, delle visioni di territorio, come dire, collettive per affrontare questi temi perché è impossibile pensare che per i prossimi anni una singola realtà locale un singolo municipio possa affrontare queste questioni Alla base di questa visione c'è quindi la necessità di una collaborazione continua non solo con i vari comuni della zona, anche oltre Alpe ma anche con enti più lontani, come appunto le università L'università può dare due cose c'è un livello base che è quello di aiutare a leggere le dinamiche del territorio e c'è un livello forse un po' più sofisticato che è aiutato anche da uno sguardo esterno da uno sguardo terzo, diciamo che è quello di raccontare come dei territori possano fare massa critica per affrontare alcune delle sfide principali non c'è nessuna intenzione di venire a dire noi sappiamo meglio però quello che forse riusciamo ad aiutare a fare in questi territori e dire guardate che dovete costruirvi una massa critica per riuscire ad affrontare delle sfide che sono complicate In questo periodo storico ci pare che si stia tornando un po' troppo verso il campanilismo, un po' troppo verso un atteggiamento individualistico che solo apparentemente fa il bene delle comunità che ragionano in questa maniera le sfide che abbiamo davanti sono veramente importanti e sono chiaramente strategiche hanno la necessità di avere una base territoriale, una base demografica e una coesione politico-amministrativa per poter essere combattute e vinte tutto questo è stato inquadrato dal Politecnico di Torino e lo mettiamo a disposizione dei decisori di questo territorio perché comprendono che è patrimonio comune e perché comprendono altresì la necessità di rilanciare questo sforzo di azione collettiva